Quattro casi accertati finora, tutti accolti al pronto soccorso di Treviso con i sintomi tipici del vaiolo delle scimmie, febbre, mal di testa, macchie rosse e piatte sulla pelle. Si tratta di un gruppo di amici che ha contratto il virus durante una cena, il ritrovo con un amico di recente ritornato da un viaggio all'estero. Giovani appunto che non hanno ricevuto la vaccinazione in età pediatrica. Il direttore Francesco Benazzi ha atteso la conferma da parte dell'istituto zooprofilattico cui sono stati inviati i campioni per le analisi. Queste persone sono appunto a domicilio, in terapia, tranquille, non ci sono rischi di diffusione assolutamente e sono seguiti ovviamente dai nostri infermieri e dalla malattia infettiva. Il virus non ha un indice di mortalità nella diffusione che abbiamo imparato a conoscere con SARS-CoV-2. Si prende solo con contatto diretto tra le persone e quindi non ci sono problemi, non abbiamo altri casi, questi continuano a ribadire sono persone che sono state all'estero o che sono state a contatto con persone che erano all'estero per cui massima tranquillità. Più preoccupante per il direttore invece la diffusione di zecche infette che a causa del caldo iniziano a proliferare a centinaia nei prati con erba incolta. Attirate dal caldo si nutrono del sangue del soggetto che attaccano. Una volta depositato il rostro l'infezione si diffonde. Noi abbiamo avuto tre casi sostanzialmente che sono arrivati in pronto soccorso con ovviamente manifestando di aver avuto le zecche e due di questi hanno anche manifestato inizialmente una febbre encefalite che però è stata ovviamente subito trattata con antibiotico e per cui non ci sono stati problemi. Diciamo a tutti di fare molta attenzione quando vanno per i monti, di usare possibilmente vestiti chiari e non vestiti scuri che attraggono di più questi animali e soprattutto di guardarsi sempre la sera. Sul fronte Covid invece sono oltre 1800. Negli ultimi giorni i tamponi positivi, 5 persone sono attualmente ricoverate in terapia intensiva. Una fase che il direttore definisce di appiattimento sulla base dei dati della curva, il plateau dal quale potrebbe conseguire una lenta discesa.